Venditalia 2024 continua, ci troviamo allo stand di Iperfetti Banmel, azienda che è ormai presente in tutto il mondo con i prodotti dolciari di propria produzione e siamo in compagnia di Fabrizio Nicosia, il responsabile vending per l'Italia. Ciao Fabrizio, è un gran bel ritorno il tuo. Sì, sempre, noi siamo sempre presenti a Venditalia, ormai dall'undicesima forse edizione che facciamo, ci teniamo ad essere presenti e incontrare qua i nostri clienti, è un'occasione unica. Perché voi siete sempre più presenti all'interno dei distributori automatici con le vostre preferenze? Assolutamente sì, la nostra filosofia è quella di cercare di essere presenti ovunque, abbiamo una forza vendita da sempre dedicata al canale e l'obiettivo è quello di far conoscere i nostri prodotti anche attraverso la distribuzione automatica. Oggi a Venditalia avete conquistato ancora di più i vostri clienti e tanti nuovi potenziali clienti con quanto avete proposto in questa occasione? Sì, l'obiettivo è quello di innovarci sempre di più e all'interno dei nostri prodotti cercare i prodotti adatti alla distribuzione automatica, cercando di seguire anche quello che è il trend del momento. Sappiamo benissimo l'incremento degli H24 all'interno del nostro mondo e quindi abbiamo pensato anche a dei prodotti dedicati anche a loro e per questo abbiamo lanciato in occasione della fiera dei prodotti idoni, quale appunto un barattolino di chupa chupa, piuttosto di chupa chups a forma di caramelle con il pallone da basket in collaborazione con l'NBA e poi altri prodotti sempre chewing ame e caramelle. Questo per quanto riguarda perfetti naturalmente. E poi in qualità di distributori, ovvero distributori di marchio marca? Allora, assolutamente abbiamo presentato due nuove collaborazioni, la prima è un'azienda di cereali e quindi parliamo di Taralli e Simil Taralli, che è Serial King a marchio Mister Scrocco e la seconda delle schiacciatine proteiche e non a marchio Bottoli, che è ormai diciamo abbastanza conosciuta direi. Tutto qui, nient'altro? Ma è... Diciamo che abbiamo altri prodotti, diciamo... Dai che ti sto prendendo in giro, è tanta roba quella che avete presentato, io lo so che tu sei assolutamente in buona fede... Ho la razza nella manica, ma non è questo il momento, però... Io lo so che avete ancora altro da presentare, ma in ogni caso il vostro mercato continua a essere sempre più affezionato alla vostra rete di distribuzione costituita da davvero tanti agenti fedeli e tutti estremamente professionali. In questa occasione sono passato molte volte qui durante e li ho visti tutti sempre a dialogare con i vostri clienti e chi richiedeva informazioni. No, il bello, devo dirlo veramente con tanto entusiasmo e tanto orgoglio, abbiamo una forza vendita pazzesca, con agenti e collaboratori, area manager che sono con noi da tantissimi anni, conosciamo molto bene il mercato e penso che questo sia un vantaggio anche per i nostri clienti, dove hanno dimostrato tanta gratitudine fermandosi, scambiando quattro chiacchiere, condividendo delle emozioni fondamentalmente, quindi è stato molto bello. E allora indichiamo un indirizzo email al quale scrivere per chi desidera entrare in contatto con te o con qualcuno degli agenti. InfoVending.com Fabrizio Nicosia, responsabile Vending per l'Italia per Perfetti Valmelle. Grazie. Grazie Fabio, è sempre un piacere. Alla prossima edizione. Ciao a tutti. Grazie.